In questi giorni si sta parlando tanto di questi tagli dei fondi all'editoria con l'emendamento del senatore Patuanelli del 5 Stelle. Volevo sapere la sua... Vediamo che cosa esce alla fine come elaborato definitivo e poi lo commentiamo perché qua fanno una proposta, poi la notte cambia, poi ce n'è un'altra ancora dall'editoria alle buche di Roma, ad altro, stiamo vedendo di tutto. Quindi io direi aspettiamo l'approvazione definitiva e poi valutiamo complessivamente. Io credo che le manovre non devono mai avere un intento di regolamento di conti o punitivo nei confronti di questo o quell'altro. Devono costruire prospettive di cambiamento e quindi io per ora voglio un attimo sospendere il giudizio perché pure noi abbiamo fatto tante proposte, non sappiamo ancora quante ne verranno accolte, quindi da quello che si legge e quello che poi si troverà in norme ci potrebbe anche essere un abisso. Quindi prima di fare valutazioni superficiali attendiamo l'approvazione definitiva al Senato e poi alla Camera.